Si è svolto in un ristorante di contrada saiatine a Furnari il primo matrimonio ufficiale celebrato fuori dalla casa comunale. In questo modo l'esecutivo guidato da Maurizio Crimi, completando le procedure per la celebrazione ufficiale e non simbolica dei matrimoni o unioni civili fuori dalla tradizionale casa comunale, ha voluto dare un ulteriore impulso al turismo e all'economia del territorio. Il nostro obiettivo è soprattutto incentivare il turismo, allungare il periodo di permanenza del flusso turistico anche nei mesi di stagnazione, ha spiegato il sindaco Crimi. Questa è la nostra parola d'ordine e una dura sfida che vogliamo vincere nel medio e lungo periodo. L'amministrazione ha già completato da tempo le procedure per consentire alle strutture alberghiere e ai ristoranti del territorio di Furnari di adibire una porzione del loro immobile alle celebrazioni di matrimoni civili che è tradizionalmente limitata alla sola casa comunale. La prima struttura turistica e di ristorazione, il ristorante di contrada saiatine, il déjà vu by Vanave SRL, ha già infatti usufruito di questa nuova opportunità che è stata programmata dall'amministrazione comunale creando per l'occasione il matrimonio, è stato celebrato l'8 settembre prossimo, un ambiente suggestivo e romantico. Non c'è dubbio che altri operatori del terziario usufruiranno di queste nuove possibilità per favorire il turismo, ha concluso Crimi. Si tratta di un settore nuovo che spero potrà tramutarsi in un volano di attrazione turistica internazionale in modo che possano scaturire sviluppo e nuovi posti di lavoro.